Qual è la natura di questa vita? Ora, come accrescere questa consapevolezza? Vedi, è così. Quando sono arrivato, queste luci erano abbaglianti. Troppa luce. Allora ho detto così. Ora qualcuno ha abbassato il voltaggio ed è diventata soffusa. Supponi che ci sia una luce qui, con voltaggio molto basso. Tutto il resto è spento, solo una luce. Cosa vedi? Vedi solo questo pezzo? Una piccola macchia. Abbiamo alzato un pochino il voltaggio. Quindi hai visto tanto così. Oh, cinque persone sono sedute qui. Ha alzato ancora il voltaggio. All'improvviso, oh, così tante persone sono sedute qui. Tutte queste persone non esistevano nella tua esperienza. Quando il voltaggio era basso, la luce mostrava solo tanto così. Non vedevi tutto questo. Sono tutte persone viventi, ma tu non vedevi. Quindi, la consapevolezza non è un atto. La consapevolezza non è qualcosa che puoi gonfiare artificialmente. Essere consapevole è essere vivo. Come sai che sei vivo adesso? Solo perché sei consapevole in una certa misura. Non è così? Supponi di addormentarti proprio ora, qui. Sapresti se sei vivo o morto? Noi lo sappiamo. Ma tu lo sapresti? Non lo sai. Non è così. Quando ti addormenti, forse sei morto. Non lo sai. Solo dall'esterno. Perché ti vediamo respirare. Sappiamo, ok, è viva. Sta solo dormendo. Ma nella tua esperienza, non sai nemmeno se sei vivo o morto. Non è così? Quindi, ora sai che sei vivo. In che modo? Perché sei un po' consapevole. Se diventassi un po' più consapevole, sapresti molte più cose. Se diventassi molto più consapevole, sapresti molte, molte più cose. Per questo, non cercare di essere consapevole. Devi soltanto alzare il voltaggio. Per questo, c'è un processo scientifico stabilito. Come alzare il voltaggio al più alto livello possibile. Affinché ogni cosa che possiamo conoscere su questa vita, la conosciamo naturalmente. Perché è tutto illuminato. Nulla si nasconde. Tutto è illuminato. Quindi possiamo vedere ogni cosa. Supponi che ci sia un po' di luce qui. Possiamo vedere lei. Una piccola macchia scura qui. Non possiamo vedere loro. Sì o no? Un posto illuminato correttamente. Puoi vedere ogni cosa che c'è. Ci vuole uno sforzo? Ci siete? Ci vuole uno sforzo? Dov'è questa persona? Dov'è quella persona? Ci vuole uno sforzo? No. È ben illuminato. Semplicemente vedi. Quindi consapevolezza significa proprio questo. Sei ben illuminato dentro. Quindi vedi ogni cosa proprio com'è. È in questo contesto che la parola luce viene usata. Illuminazione significa sei completamente illuminato dentro di te. Puoi non vedere le lampadine, ma sei illuminato. Quindi dentro di te vedi ogni cosa che devi vedere. Quando conosci questo pezzo di vita interamente, ogni cosa nell'esistenza la conosci, perché tu conosci ogni cosa nell'esistenza solo nel modo in cui accade dentro di te. Non è così? Mi vedi adesso? Ci siete? Anche se non stai ascoltando. Mi vedi? Usa una mano e indica dove sono. Ti stai sbagliando. Sai, sono un mistico. No, questa luce cade su di me. Si riflette. Attraversa i tuoi cristallini. Un'immagine invertita nella retina. Conosci tutta la storia, non è così? Dove mi vedi adesso? Dentro di te. Dove mi senti adesso? Dentro di te. Dove hai visto tutto il mondo? Dentro di te. Hai mai fatto esperienza di qualcosa all'esterno di te stesso? L'hai fatta? Hai mai fatto esperienza di qualcosa all'esterno di te stesso? La luce e l'oscurità accadono dentro di te. Suono e silenzio accadono dentro di te. Gioia e sofferenza accadono dentro di te. Agonia ed estasi accadono dentro di te. Non hai mai fatto esperienza di qualcosa all'esterno di te. È così? Hai fatto esperienza di qualcosa qui? No. Fai esperienza di ogni cosa nel modo in cui è accaduto dentro di te. Anche adesso, qualcuno accanto a te ti tocca la mano. Se qualcuno ti tocca la mano, pensi di fare esperienza della sua mano? No. Fai solo esperienza delle sensazioni nella tua mano. Non è così? Quindi, della natura stessa delle cose. Non puoi mai e puoi mai fare esperienza di niente altro che te stesso. Pensi che stai vedendo le stelle. No. Lo stai vedendo solamente come è proiettato nel firmamento della tua mente. Non è così? Non sai come sono le stelle. Lo sai solo nel modo in cui accade dentro di te. Sì o no? Quindi, se vuoi conoscere questo meglio, non leggi una scrittura, non ascolti i discorsi degli altri, lavori per affinare la tua percezione, affinché tu veda le cose chiaramente. Ora, il mondo si riflette nello specchio della tua mente. Ora, l'unica cosa che devi fare è adesso il tuo specchio è un po' deformato. Hai mai visto te stesso in uno specchio convesso, concavo o distorto? Vai a metterti lì. Sembri così. Supponi, quello è il tipo di specchio che hai nel tuo bagno, in camera da letto, ovunque. Dopo un po' di tempo inizieresti davvero a credere è così che sono. Non è così? Sì o no? Quindi, ti assicuri di avere uno specchio normale per poter vedere la tua faccia, così com'è. Non è così? Quindi, il lavoro è solo questo. portare la tua mente in un punto in cui nessuna sporcizia ci resta attaccata. È uno specchio normale. Quindi, se lo tieni, mostra ogni cosa semplicemente così com'è. Nessuna distorsione. Se vedessi ogni cosa così com'è, dirigeresti la tua vita senza sforzo? È tutto qui. Non è così? Non è così? Allora da qua. Allora da qua. Assistai. Grazie.